Applicazioni iPhone 4 e iPad 2 questa è in 3D, un elemento che sicuramente rappresenta una pecca del nuovo tablet e la Apple è senza ombra di dubbio la risoluzione posseduta dalla fotocamera anteriore del dispositivo, che così come quella del melafonino di quarta generazione viene di fatto utilizzata per le videoconversazioni attraverso l'applicazione Facetime.m alla fotocamera anteriore del dispositivo Sebbene abbia sollevato non poche discussioni riguardanti appunto la qualità, si è rivelata fondamentale per la realizzazione e la produzione di un applicativo per iOS il quale dà la possibilità di scorgere la terza dimensione nelle immagini visualizzate dal dispositivo senza dover necessariamente essere provvisti degli speciali occhialini Questa speciale tecnologia viene chiamata Head Tracking La produzione di questa speciale applicazione si deve ad una coppia di programmatori francesi, che hanno realizzato l'applicazione capace semplicemente osservando e studiando i movimenti che un osservatore compie con la testa durante la visualizzazione di un'immagine Di muovere quest'ultima all'interno dello schermo, in modo tale da offrire l'effetto di profondità.Non essendo strettamente necessaria la visione attraverso due lenti diverse Cosa che avviene con gli occhialini, si è capaci di riprodurre l'effetto di tridimensionalità utilizzando solamente le tradizionali telecamere Tecnologia che si potrebbe rivelare molto utile per le future progettazioni di giochi e ad applicativi che potranno sfruttare la tridimensionalità